Grazie. Ha chiesto ora di parlare il deputato Giancarlo Giorgetti. Ne ha facoltà dieci minuti massimo. Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio, domenica scorsa a Roma hanno votato, come l'ha ricordato, il 50% degli elettori, un elettore su due. Hanno votato con un sistema elettorale che prevede l'elezione diretta del sindaco, che prevede le preferenze, la scelta degli eletti, non con le segreterie ma per mezzo agli elettori, con una grande quantità di candidati, uomini e donne, preferenze di genere. Ciò nonostante è andato a votare un elettore su due. Quindi io penso che nelle discussioni di tanti che ho sentito il dire che la colpa della legge elettorale sia fuorviante, sia richiamo a un capo dispiatorio, la verità vera è che la politica, tutti noi, non siamo in grado di dare le risposte ai problemi dei cittadini, ai problemi delle famiglie. Non siamo in grado di rispondere e di risolvere i loro problemi, i problemi delle famiglie, sono i problemi del lavoro che non c'è, che non c'è per i giovani e non c'è anche pagare per quelli che hanno 50 anni, che escono dal mondo del lavoro e non sanno veramente dove sbattere la testa. Le nostre imprese chiudono e vanno all'estero e non vanno semplicemente, che so io, in Est Europa, in Asia, chissà dove. No, valicano il confine, vanno in Svizzera, vanno in Slovenia, vanno in Austria, paesi che sono nell'Unione Europea come l'Italia, ma che evidentemente, nonostante le regole europee, offrono condizioni migliori per poter fare impresa e creare il pezzo. Le famiglie non arrivano alla fine del mese, magari qualcuna non arriva nemmeno la terza settimana, questa è la realtà. E i cittadini vedono lo Stato e tutto quello che assomiglia allo Stato come una palla al piede. Non semplicemente gli imprenditori, ma a questo punto anche i lavoratori, che quando hanno bisogno di difendere la loro azienda, anche la loro azienda, non trovano uno Stato in grado di farsi rispettare quelli che sono i loro diritti. Tutto ciò si risolve con le riforme istituzionali, cambiando la legge elettorale. Certo, questa è una condizione necessaria, ma non è una condizione sufficiente. Noi possiamo anche cambiare la forma, ma se non cambiamo il contenuto e quindi in qualche modo non cambiamo noi stessi, credo che queste risposte non arriveranno. Abbiamo fatto tante false partenze sul tema delle riforme, tante commissioni bicamerali, tante riforme, in particolare la riforma che è stata approvata nel 2005-2006, che è stata poi bocciata da un referendum disgraziato e che avrebbe già oggi in qualche modo dato un Parlamento snello di con il numero dei parlamentari dimezzati la possibilità di decidere in tempi rapidi e con efficienza decisionale. Però si chiamava devolution, si chiamava devoluzione, aveva il vizio che in qualche modo era stata portata avanti e proposta dalla Lega Nord. Quell'errore deve essere rimediato. Noi abbiamo ascoltato il suo discorso in occasione della fiducia e abbiamo apprezzato la parte che abbiamo puntualmente richiamato nella nostra mozione che faceva riferimento alle riforme. E quel voto contrario, naturale, alla fiducia, si è tradotto in astensione proprio per questo motivo. Astensione che vorrei precisare meglio oggi. Qualcuno, qualche giorno fa, il Presidente di Confindustria, ha detto che il Nord è sull'orlo del Baratro. Noi l'abbiamo capito da un po' di tempo che il Nord è sull'orlo del Baratro. E se si spegne la luce al Nord è notte fonda per tutti, a cominciare da Roma. E non è che aspettando che passi la nottata poi la luce torna naturalmente. Questo deve essere chiaro come molti magari pensano ancora qui. C'è un po' di delusione oggi. Lei, motivando il giudizio sulla nostra mozione, ha detto che nel corso di questi giorni, di queste settimane, si è raffinata la proposta da parte della maggioranza e anche del Governo. Io penso che qualche piccolo passo indietro si è fatto. Onestamente, devo dire che l'evitare accuratamente di entrare nelle questioni di merito e concentrarsi sulle questioni di metodo evita in qualche modo di scontrarsi con i problemi di una maggioranza così variegata. Ma il passare dall'ambizione di una convenzione ampia che coinvolgesse anche la società civile ha un comitato di 40, non si chiama neanche più commissione bicamerale, ma io capisco naturalmente per scopi scaramantici, evita di richiamare la mozione della maggioranza e esperienze sfortunate del passato. Quindi siamo passati al comitato. Ecco, mi sembra un passo indietro. E anche per quanto riguarda i tempi, il partire da subito i 18 mesi di un mese fa, oggi mi sembra che sia un 18 mesi a partire di non so quando. Io, diciamo così, rinegozio quella scadenza partendo i 18 mesi da oggi. Lei ha detto che forse un giorno si ricorderà il 29 di maggio del 2013, io vorrei ricordare il 29 novembre del 2014 come una data conclusiva e importante e di cambiamento. La necessità della grande riforma, delle grandi emizioni che lei aveva richiamato in occasione del dibattito sulla fiducia si è subito scontrata nei pericoli che lei stesso, in qualche modo, diciamo così, paventava. Il dibattito politico contingente. Il dibattito politico contingente che ha escluso, lo ribadisco, le grandi questioni di merito da delle discussioni di oggi e soprattutto una questione, signor Presidente, lo svuotamento progressivo della sovranità di questo Parlamento a beneficio dell'Europa. Non ne ha parlato nessuno, ma se noi andiamo a riscrivere la Costituzione dovremmo in qualche modo tenere in considerazione del fatto che in tutti questi anni abbiamo approvato, attraverso trattati nel disinteresse complessivo del Parlamento, Camera e Senato compresi, trattati fondamentali per la vita delle imprese e delle famiglie dei cittadini, Forse l'unica riforma che recepisce l'ordinamento europeo, quella dell'articolo 81, che è stata approvata qui con la procedura costituzionale, anche quella è passata, forse, diciamo così, con leggerezza, non dico superficialità, ma con non il dovuto approfondimento necessario. Ora, finalmente, io penso, quel tipo di riforme che surditezzialmente sono passate dall'Europa dovranno essere ricomprese nella nuova Carta Costituzionale e finalmente il popolo, con un referendum che voi avete in qualche modo messo lì a chiusura di questo percorso, sarà chiamato anche a esprimersi su questo. Signor Presidente del Consiglio, le promesse che lei ha fatto un mese fa non si sono raffinate. Io penso che complessivamente si sono impoverite. In qualche caso, faccio riferimento ad esempio a Limo, si sono tradotti in un mero rinvio, quindi non credo che ci siano passi in avanti. Però, le voglio anche dire che la larga maggioranza che tutti invocano sulle riforme costituzionali è sicuramente una buona cosa. Ma è una buona cosa, come ci insegna l'esperienza del 1946, se è sorretta da grandi idealismi, da grandi idealità. Se non è la ricerca di un compromesso a ribasso, un minimo risultato, tanto per rispondere a quelli che sono i richiami magari del Presidente della Repubblica. Qui, a differenza del tema economico, non servono i soldi. Non abbiamo il problema della signora Merkel o del debito pubblico ereditato, che rappresenta una zavorra che impedisce di fare le cose che chiede la gente, le famiglie, le imprese. Noi abbiamo presentato una mozione che in qualche modo cerca di avere una grande ambizione, ricca di tutte le idealità che la Lega Nord nel corso di questi anni ha portato nel dibattito delle riforme. Il federalismo, in tutte le sue varie declinazioni, compresa l'ultima del federalismo fiscale. Signora Presidente del Consiglio, lei, parlando di riforme, non ha la zavorra, o ribadisco, del debito progresso. Ha una piccola grande zavorra, che è quella che è rappresentata dei partiti che la sostengono e dell'esigenza di avere comunque una maggioranza che mandi avanti questo governo. Ecco, io le voglio dire, in qualche modo, si liberi da questa zavorra, non guardi a destra e a sinistra, ma guardi avanti. Se così farà, la Lega raccoglierà la sfida.